Diciottesima edizione della mostra di Bonsai, la luna tra le foglie, nel fine settimana marostica. La mostra, che ha lo scopo di divulgare l'arte bonsai, vedrà l'esposizione di 30 esemplari, in programma convegni e dimostrazioni pratiche. Durante tutta la durata della manifestazione sarà inoltre presente un'area nursery, dove chiunque potrà portare il proprio bonsai per ricevere consigli.